buonasera parliamo oggi di un canto dell'inferno notissimo memorabile il cosiddetto canto dei giganti il canto trentunesimo dell'inferno costituisce un luogo di altissima densità semantica nella commedia e per molti aspetti non solo perché comprende temi belli e diversi dalle citazioni dei testi classici alla materia dei giganti dalla ripresa di testi moderni i soggetti dell'epica francese ad esempio richiamati dal corno della chanson de vola sino al tema centrale delle lingue parlate dagli uomini il volgare l'ebraico il latino fino all'incomprensibile espressione di nembrot gigante biblico che parrebbe ossessionare la fantasia di dante citato come oltre che nel de vulgari eloquenzia in tutte e tre le cantiche ossia qui e poi in purgatorio 12 e in paradiso 26 ed infine il tema dell'altezza di babele qui sprofondata nella nebbia ghiacciata dei tradimenti superbi il paesaggio che prelude al precipizio più doloroso e difficile del viaggio nell'inferno ossia la vista di lucifero transita sapientemente in tal modo dal registro volgare e comico delle spreggevoli e basse battute del canto precedente di gianni schicchi sinone e maestro adamo in un contorno sempre più scuro e alto che diventa in qualche misura subito tragico quello fisico di torri imponenti precipitate di un balenare di fulmini e di sassi inerti di città dai profili individuabili fatte di torri medievali demolite e superate paesaggio di macerie fumanti di un passato anche proprio vedute ora davvero nella caligine quel paesaggio di ruto di torri e città e quello stesso di uomini altissimi i giganti qui titani imbelli e afasici immagini della sconfitta perfetta della superbia giganti tanto spropositati nella loro altezza sciocca da preludere congruamente alla bassezza totale alla vista glaciale del male assoluto di lucifero cioè conficcato nel centro della terra come un grido una spina dura e fissa dentro il cuore immobile del mondo e senz'altro arduo riuscire anche solo a mostrare in sintesi la complessità strutturale dello straordinario edificio letterario qui eretto da dante in questo canto senza dannati ad accompagnare cioè con passo che si vorrebbe non impressionistico ma appunto filologico la trama sottile dei tanti temi intrecciati in questa stagione speciale dell'inferno abbandonata male bolge quell'ultima bolgia dell'ottavo cerchio il misero vallone come detto nel verso 7 in cui si puniva un mondo sordido fatto di inganno e di violenza dante e virgilio s'accostano ora al pozzo di cocito verso il ghiaccio del nono e ultimo cerchio se fin qui i viandanti scendevano di cerchio in cerchio per quanto per balze sempre più scoscese e accidentate adesso è un vero e impegnativo salto che costringerà il personaggio e il poeta a richiamarvi a sostegno ogni energia intellettuale e morale a rendere possibile quel salto non saranno le proprie gambe i propri mezzi cioè come nel per certi versi analogo volo di gerione ma le gigantesche mani di anteo che poseranno poi dante e virgilio verso il centro esatto del pozzo secondo una tecnica di raccordo narrativo del tutto usuale nella commedia l'esordio del canto trentunesimo si riallaccia direttamente alla conclusione del canto precedente prolungando la situazione psicologica lì descritta ma nello stesso tempo la distanza la cambia a disegno ho già accennato ad una transizione anche di stile che mi pare importante da propriamente comico realistico tutto qui si farà nei toni e nei colori compiutamente epico e tragico pur lasciando vedremo uno spazio preciso ad una sorta di per così dire didattica ironia è opportuno richiamare brevemente gli ultimi versi del canto precedente il trentesimo nei quali è stata raffigurata una vicenda emotiva complessa scandita in tre momenti il rimprovero di virgilio uno dei suoi interventi più severi in tutta la commedia per la bassa voglia che ha tenuto il pellegrino vogliosamente attento a guardare la spreggevole zuffa tra sinone maestro ad amo ad ascoltarli erio del tutto fisso quando il maestro mi disse or pur mira che per poco se tecono mi risso quindi la confusione la vergogna di dante ammutolito colpito dal fatto che virgilio gli si rivolge addolorato con ira egli è del tutto incapace di trovare una scusa adeguata on dio il sentì a me parlar con ira volsimi verso lui con tal vergogna che ancora per la memoria mi si gira infine la soluzione il conforto impartiti da virgilio medesimo eseguiti eseguiti scusate da parole in cui la durezza si stempera nella raccomandazione a far sì che a spettacoli di tal genere il pellegrino mai più si sottoponga tenendosi la guida della ragione sempre al lato l'era giusta di virgilio si ricordi che per la filosofia medievale si distingueva tra ira bona et mala di esse la prima rappresenta il sano sdegno per il male e solo la seconda è vizio come spiega anche san tommaso nella dodicesima delle questiones disputate riuscirà benefica per dante e di fatto si oppone all'ira ingiusta di giunone con cui si era aperto il canto precedente se il valore morale del rimprovero di virgilio costituisca anche la prova di una palinodia di dante cioè di quella adesione giovanile al genere comico potrebbe essere traccia interessante da completarsi in altra sede il superamento della poesia comica avverrebbe così nel ricordo della torre garisenda che arriverà alla fine di quella maniera emblematicamente rappresentata dal celeberrimo sonetto nome poria zamai faremenda che i notai di bologna avevano appuntato nei loro memoriali ebbene il superamento della bassa voglia del canto trentunesimo sarà sottolineato dall'insistenza con cui ricorrerà l'antonimo per eccellenza molte alte torri al verso 20 ma anche l'alta guerra al verso 119 e persino l'alto corno che nell'aggettivo disegna già tutto un altro panorama non più plebeo ma assieme epico e tragico classico e cristiano la scenografia imponente torri concretissime e terrestri la garisenda di bologna ma anche torri figurali e morali i giganti e poi la torre per eccellenza va bene ebbene questa articolata e tortuosa vicenda psicologica è ripresa nell'esordio del nostro canto anzi lapidariamente riassunta in una terzina la prima una medesma lingua pria mi morse sì che mi tinse l'una e l'altra guancia e poi la medicina mi riporse è stato notato come sia questa l'unica occorrenza nella cantica della parola medicina un termine che nella lirica cortese provenzale italiana aveva assunto una sua specifica qualità legata anche all'investigazione della natura dell'amore è tu cur propria alle scienze naturali che tanta parte avranno in questo canto e assieme a medicina è proprio lingua la parola chiave che campeggia sin dal primo indecasillabo la terzina non si limita tuttavia a ricapitolare il senso della scena già descritta il riferimento alla lingua di virgilio evoca infatti per contrasto uno dei temi maggiori del nostro canto ove il nesso strutturale tra suono la voce nella sua materialità e il contenuto razionale in esso incorporato che nel De Vulgari Dante pone alla radice della comunicazione umana si mostrerà non semplicemente falsificato o morbosamente stravolto come appunto in maestro Adamo e Sinone bezzì irrimediabilmente spezzato è il caso appunto vedremo del gigante Nembrotto la cui lingua perduta ogni traccia di umanità apparirà degradata ad ammasso in forme di relitti sonori eruzione caotica di termini oscuri e insignificanti va ancora precisato per quel che concerne l'esordio del canto che l'impressione acustica lasciata dalla febbrile contesa tra i due falsatori arretra in effetti all'apparire della preziosa similitudine incastonata ai versi 4 6 nei quali la parola di virgilio che prima morde e poi guarisce la ferita che essa stessa ha provocato viene paragonata alla lancia di peleo e quindi l'evocazione di achille che aveva il potere di risanare le ferite da essa inflitte l'enjambement sottolinea la formula che se attinta al consueto repertorio ovidiano ci avvia propriamente all'ambiente lirico cortese francese provenzale la lancia di peleo è citata nel romando 3 e ad esempio oppure nella celebre canzone d'amore ab gioi ma u lo vers e il commence di bernard de ventadorn è richiamata oltre che da joffrey di blaia anche da arnaud daniel in quella sestina che dante conosceva perfettamente da lì l'immagine era poi arrivata allo stil nuovo italiano al mare amoroso a chiaro d'avanzati eccetera dante dunque sottolineando la trama francese fa anche rimare con finezza lancia con mancia sottolineando appunto che nell'italiano quel termine è proprio all'estico feudale ed è un vero gallicismo viene infatti dall'italiano da mance la manica che la dama offriva in dono al cavaliere nei tornei con tale nobile immagine si congeda definitivamente il chiasso plebeo di malevolge le sue voci sono superate da un più saldo orizzonte morale noi demmo il dosso le spalle al misero vallone qui si situa il vero e proprio inizio del canto trentunesimo dante e virgilio si avviano soli in un paesaggio mutato fosco e immobile in assoluto silenzio senza alcun sermone e verso 9 mentre tutto intorno e penombra difficile qui vi era men che notte e men che giorno sì che il viso mandava innanzi poco e il viso è il vedere il guardare lo sguardo in questo raccoglimento silenzioso in forte contrasto appunto con la rumorosa zuffa precedente irrompe il suono di un corno così forte alto che avrebbe fatto sembrare debole ogni rombo di tuono ma io sentì suonare un alto corno tanto che avrebbe ogni ogni tuon fatto fioco si staglia così in tale atmosfera epica il tema principale del canto sia quello dei giganti terribili abitatori di questa zona dell'inferno ed è opportunamente epica l'immagine che subito dante la accompagna anzi la più epica possibile dopo la dolorosa rotta quando carlo magno perde la santa gesta non sono sì terribilmente orlando il riferimento è al notissimo episodio della chanson de roland quello della dolorosa sconfitta che nel 778 i saraceni di spagna inflissero tra i pirenei alla retroguardia cristiana che nei versi di dante è la santa gesta il paladino orlando per avvisare l'imperatore carlo faceva suonare l'alto corno dell'olifante fra le alte montagne di spagna alto e dunque una ripresa esatta del testo francese in lingua d'oil mentre l'eco lungo del suono è reso attraverso la tessitura fonica del verso ossia attraverso l'iterazione della vocale o non sono sì terribilmente orlando e se il suono potente del corno e traduzione sonora vedremo dell'anima sciocca del gigante nembrotto altri fragorosi segni della natura connoteranno la presenza di quegli esseri straordinari il tuono al verso 13 la nebbia al verso 34 il tuono e fulmini al verso 45 il terremoto al verso 106 è certo questo un tratto proprio della permanenza della memoria classica in dante per l'esemplare punizione assegnata ai giganti ribelli nel mito i fulmini sono infatti quelli con cui giove sconfisse i titani nella battaglia di flegra qui richiamata propriamente al verso 45 la potenza straordinaria e terribile epica appunto del suono che all'improvviso accolto i due poeti aggiunge alla connotazione fisica il fragore la nota morale il suono è così potente da obbligare gli occhi del pellegrino a dirigersi verso la fonte sonora contra sé la sua via seguitando dirizzò gli occhi miei tutti in un blocco dante si volta e in lontananza appare il profilo di molte alte torri virgilio subito lo esorta a non cadere nell'inganno ad avvicinarsi piuttosto verso la fonte dell'immagine questa volta con una premura affettuosa sottolineata dall'avverbio poi caramente prese per mano e disse pria che noi siamo più avanti a ciò che il fatto menti paia strano sappi che non son torri ma giganti e son nel pozzo intorno dalla ripa dall'umbelico ingiuso tutti quanti l'errore della vista scompare e l'occhio del pellegrino nell'area tenebrosa come attraverso una lente che permette di riacquistare il fuoco diventa limpido e corregge l'errore della prospettiva ma al contempo assume il terrore per ciò che vede come quando la nebbia si dissipa lo sguardo a poco a poco raffigura ciò che cela il vapore che l'aere stipa così forando l'aura grossa e scura più e più appressando ver la sponda fuggiemi errore e crescemi paura ecco straordinario emblema visivo del canto l'invenzione del gigante torre rivela qui tutta la sua potenza espressiva nella complessa quanto raffinata costruzione architettonica dell'inferno dante immagina giganti che come la cinta muraria di monterigioni sono posti tutti intorno al pozzo che si spalanca al centro di malebolge con i piedi sull'orlo esterno dell'ultimo cerchio e sovrastanti la ripa dall'ombelico in su torreggiavan di mezzo la persona gli orribili giganti cui minaccia giove del cielo ancora quando tuona dalla studiatissima architettura entro la quale dante incastona le figure tra luce una precisa figura morale occorrerà però anzitutto segnalare che la raffigurazione dantesca dei giganti raccoglie due diverse tradizioni una derivante dalla storia sacra dalla bibbia l'altra dalla letteratura classica la prima è significata da nembrotto di cui si legge in genesi e che dante considera secondo una consolidata tradizione segetica l'ideatore l'architetto della torre di babele la seconda è raggiunta attraverso almeno virgilio l'eneide 6 verso 580 e seguenti stazio la tebaide il quarto libro verso 534 e lucano farsalia 6 665 ed è rappresentata dai giganti fialte briareo e anteo i figli della terra che tentarono ad eccezione di anteo non ancora nato all'epoca dei fatti di scalare l'olimpo sovrapponendo il monte ossa al monte pelio e poi abbattuti dai fulmini di giove a flegra come ricordato oltre che dal nostro canto già da capaneo in inferno 14 versi 58 59 una lunga tradizione segetica ad esempio sant'agostino il decivitate dei aveva raffigurato nei giganti la superbia che si ribella al divino annullando di fatto la reale distanza fra il gigante biblico e quello classico durante il corso del medioevo tale linea fondamentale si era poi arricchita di varie sfumature secondo la prospettiva stoica i giganti rappresentavano i tumulti e gli appetiti le passioni che attaccano l'olimpo della ragione così per esempio boezio nella consolazio filosofie 3 12 e macro obbio eccetera o secondo una linea più propriamente neoplatonica il nemico superbo dello spirito che accumulando sasso su sasso fa precipitare l'animo nella notte della materia è il punto di vista di guion de conche le glosse super boezium 3 12 ma occorre procedere con chiarezza e dunque secondo l'ordine stabilito da dante principiare da nembrot la faccia sua mi parea lunga e grossa come la pina di san pietro a roma e a sua proporzione erano l'altre ossa non ha nome l'essere gigantesco se non venti versi dopo per bocca di virgilio questi ennembrotto per lo cui malcoto pur un linguaggio nel mondo non si usa il gigante acquista il suo nome dunque solo accanto al suo empio pensiero coto come in paradiso 3 26 ed è verbale da cogitare l'idea cioè di costruire la torre di babele dichiarazione di orgoglio coscienza superba della propria capacità di fare fiducia in un'eccellenza paga soltanto del proprio ingegno un intelletto che non confida e non si affida e che in tal modo sfida e poi si illude di eguagliare dio del tutto impossibile assumere qui la gamma diversa di commenti ai passi biblici in cui si parla di nembrot dante del resto aveva già citato quella figura nel primo libro del suo de vulgari eloquenzia dove attribuiva già al figlio di cus e re di babilonia il disegno di costruire nella pianura di senna una torre alta tanto da raggiungere il cielo folle presuntoso tentativo la ligieri usa il verbo esatto lì nel de vulgari presuncit ergo in corde suo punito da dio con la dissoluzione dell'unità linguistica del genere umano venite igitur descendamos et confundamos ibi linguam eorum la scoperta dell'archivio di ebla nel nord della siria ha peraltro dimostrato che a partire dal 2300 avanti cristo circa su alcune tavolette incise si attesta due volte l'eblaita namrad re di bargao che poi in ebraico diventa nimrod il suo regno comprendeva babilonia ere che accad aveva fondato ninive la terra limitrofa ad essa era perciò chiamata la terra di nimrod in michea in altri testi e invece paragonato al grande guerriero e cacciatore assiro sargon altri autori lo assimilano lo assimilano addirittura a gilgamesh e da ricordare però che nella vetus latina il termine ebraico difficile nei filim già problematicamente reso nella septuaginta trasforma così il passo di genesi ic erat gigans venator ante dominum deum propteroc dicunt nembrot gigas venator ante dominum e genesi 10 da qui i numerosi commenti fra i padri ad esempio sant'agostino ancora il de civitate dei e sant'ambrogio i quali istituiscono già un parallelo fra i passi biblici e la gigantomachia pagana che eleggono il luogo ad esempio ad exemplum della superbia umana o assumono i giganti come segno di empietà associata poi anche all'astrologia allo studio delle stelle fino all'interpretazione di nembrot come figura di aboli che poi accoglierà ad esempio pietro di dante il figlio di dante nel suo commento spiegandone perfettamente la relazione strutturale con lucifero l'ambiente in cui i giganti danteschi sono collocati nel nostro canto dipende dunque evidentemente da suggestioni bibliche a cui si è fatto brevemente cenno a partire dall'elemento centrale del pozzo che dante poteva trovare in giobbe e nel salmo 55 tu o dio li sprofonderai nel pozzo uno dei passaggi più significativi si rinviene infine in ezechiele 32 dove si fa riferimento propriamente allo sheol il pozzo ove il faraone e gli egiziani sono disposti come qui i giganti per girum sepulcrim giacendo insieme fissi con altri popoli superbi infine il verso 33 dall'umbelico ingiuso tutti quanti riprende puntualmente rovesciandola la formula già adoperata nell'inferno per farinata dalla cintola in su tutto la tutto implicava anche in special modo una statura morale qui tutti quanti esprime soltanto una misura fisica abnorme se il parallelo è corretto il motivo di farinata serve a mostrare gli estremi di una medesima disposizione morale la superbia dei giganti non è infatti che la degenerazione viziosa di quell'alto sentimento di se stessi che aristotele pone a fondamento della magnanimità in effetti questa statura senza statura questa grandezza senza intelligenza e senza lingua ci viene incontro sin dalla prima immaginifica descrizione la faccia di nembrotto come si è visto è paragonata l'enorme pigna di bronzo alta ben 20 metri che ai tempi di dante occupava il portico della basilica di san pietro così come poi alla fine del canto anteo quando si ergerà di nuovo in tutta la sua altezza dopo aver depositato i due poeti sul fondo di cocito è visto simile ad un albero di nave i giganti sono un ammasso di materia brutta e questa privazione di ogni segno gentile e umano li rende simili a cose non a esseri animati la loro ottusità subumana e dunque perciò stesso brutale come di bestia e il suono inespressivo della voce di nembrotto colui per il quale la confusio linguarum fu poi realizzata in quanto responsabile del progetto della abominevole torre si ritrova a parlare una lingua barbara soltanto sua incomprensibile a chiunque questo il suo verso raphael maia me che zabbì almi chiuso in una impenetrabile oscurità condannato in eterno a non poter essere compreso l'idioma semi bestiale di nembrotti rompe con le sue dissonanze aspre e chiocce in una vera glossolalia benché in essa si siano rintracciati relitti di significati e di singole parole ebraiche seppure attestati esperimenti analoghi in testi mediolatini e in autori volgari ad esempio l'ufficium stelle del dodicesimo secolo jambaudel roteboeuf eccetera il verso qui è necessariamente una cozzaglia di voci che di per sé non possono significare nulla proprio per il motivo esposto appunto nel de vulgari e nel primo libro del de vulgari e alla luce del medesimo motivo si spiega perfettamente perché virgilio sottolinei l'inutilità di qualsiasi dialogo col gigante lascialo stare e non parliamo a voto che così è a lui ciascun linguaggio come il suo ad altrui cannullo è noto lo dice virgilio che del tutto vano cercare nel verso un significato univoco e non indulgiamo dunque ad aggiungere altre lambiccate ipotesi come stato osservato le parole del verso 67 sono però curiosamente cinque e ciò forse richiama un passo paolino quello va appunto l'apostolo esprimeva il desiderio di poter pronunciare nell'assemblea almeno cinque parole cinque parole significative secondo la propria intelligenza delle cose è la lettera prima ai corinzi 19 così è ancora virgilio ad apostrofare sprezzantemente nembrotto con gli aggettivi giusti anima sciocca tienti al corno e con quel ti disfoga quandira ad altra passione o d'altra passione non ti tocca cercati al collo e troverai la soga cioè la corda che il tien legato o anima confusa e vedi lui che il gran petto ti doga ecco nembrotto eppure un'anima ma sciocca confusa aristotelicamente cioè estranea a se stessa confuso poi è proprio l'aggettivo proprio a babele il segno della confusio linguarum che qui allude al problema della significatio del linguaggio naturale della lingua da mitica su cui non c'è ora modo davvero di fermarsi e indica anche il superamento della teoria che dante aveva esposto nel de vulgari eloquenzia vorrei infine aggiungere e non mi pare sia stato ancora notato nei saggi presenti alla critica che l'incomprensibile verso di nembrotto si chiude proprio con il termine almi con l'aggettivo caro alla nostra alma mater studiorum posto lì a rimare con salmi ebbene se è plausibile come prima rilevato che siano proprio i salmi una delle fonti primarie visive di quel pozzo dei giganti ebbene forse di certa importanza riflettere sul fatto che in paradiso 24 prima delle affermazioni di adam sul linguaggio degli uomini dante userà antifrasticamente le stesse rime quando i dolci salmi rappresentano appunto il più alto grado di espressione e in quel ricordo dell'origine della differenziazione linguistica termina il percorso dantesco riguardante l'arte della parola non è forse un caso dunque che la medesima coppia rimica ricorra qui sullo stesso tema per moise per profeti e per salmi per l'evangelio e per voi che scriveste poi che l'ardente spirito vi fe almi il paragone esplicito sull'unità nella diversità delle lingue nella pentecoste superava babele come peraltro molti manoscritti rappresentano plasticamente nelle miniature affiancando i due episodi scritturali ad esempio vedete qui lo speculum umane salvazioni trasmesso dal manoscritto parigi biblioteca dell'arsenala 593 altrettanto la torre della superbia di nembrot la torre di babele era superata nell'inveramento cristiano da maria turris e burnea torre bianca e lucente torre per eccellenza ecco anche qui le miniature coeve sono del tutto esplicite dante dunque non faceva che raccogliere forse un parallelo che nelle seggesi scritturale era già fiorente infine nell'economia delle parti un posto decisamente minore è concesso agli altri giganti che vengono ritratti a rapidissime pennellate e così dopo il gigante biblico compaiono i giganti del mito ai versi 83 e seguenti più ferro e maggio ecco e fialte che fece le gran prove quando i giganti fer paura ai dei e combatte cioè a flegra sovrapponendo i monti ossa e pelio le prove quando i titani diedero l'assalto al cielo anche fialte è un ammasso sciocco tanto grande quanto vuoto colui che volle essere esperto di sua potenza contro al sommo giove e ora incatenato come nembrot suona terribilmente insensatamente il suo corno così questi scuote potentemente le sue catene tanto fortemente da sembrare una torre attraversata questa volta da un violento terremoto non fu tremuoto già un turbesto che scuotesse una torre così forte come fialte a scuotersi fu presto ancora torri ancora fenomeni tellurici segni atmosferici del mondo sublunare che nelle loro manifestazioni precise dipendono da testi scientifici vulgati ad esempio in meteorologica di aristotele e dopo e fialte dante nomina briareo mostro dalle cento braccia secondo virgilio centum geminus eine neide sei o claudiano e qui smisurato immensus lo aveva etichettato stazio nella tebaide dante vorrebbe vederlo ma virgilio gli risponde che è troppo lontano e poi non ha nulla di particolarmente significativo è solo più feroce nel volto riprendendo qui evidentemente il briareus ferox di farsalia 4 ultimo appare finalmente anteo ben distinto per molte ragioni dai tre giganti precedenti che dante parrebbe trarre di peso sempre da lucano farsalia 4 versi 597 seguenti e che aveva già citato nel convivio virgilio supplica il gigante di trasportare lui e dante sul fondo del pozzo dove cucito la freddura serra anteo che non è incatenato si sottomette docilmente alla richiesta li afferra e lievemente è un aggettivo che stabilisce un delicato contrasto disegnando il gesto insolito di quella enorme mano che aveva combattuto contro ercole e li posa appunto lievemente al fondo che divora lucifero con giuda per poi risollevarsi subito come albero in nave ecco qui e con questa immagine dante conclude il canto trentunesimo il vero sigillo visivo però quello che ne segna il tratto morale è invece già stato offerto poco prima nel paragone tra anteo e la torre garisenda di bologna con il quale dante commenta l'ultimo balzo in giù dei due viandanti qual pare a riguardar la carisenda sotto il chinato quando un nuvol vada sovressa sì che ella incontro penda tal parve anteo a me che stava bada di vederlo chinare e futta allora che io avrei voluto ir per altra strada il poeta si spaventa nel vedere anteo chinarsi verso il fondo del pozzo l'impressione è simile a quella che si riceve a guardare la torre garisenda dalla parte inclinata verso la terra quando vi passi sopra una nuvola in senso contrario alla pendenza lì sembra quasi che la torre crolli sull'osservatore così l'icona della torre con la quale era iniziato il canto il verso 20 mi parve veder molte alte torri per errore ritorna circolarmente e congede e congeda i mostruosi giganti con un altro effetto ottico la torri di una città fittizia prodotti di allucinazione qui la garisenda la più inclinata fra le due celebri torri bolognesi potrebbe sembrare un paragone neutro ma non lo è dante riprende qui attraverso una reale competenza delle fonti filosofico naturali il nuvol del verso 137 all'apparenza innocuo che vediamo incombere per un istante sul gigante torre vuole ricordarci ancora una volta l'ultima che questi giganti per quanto terribili e spaventosi nelle loro fattezze sono in realtà dei vinti e che non vi è superbia che presuma di sfidare il cielo sulla quale non sia pronto ad abbattersi il fulmine dell'ira divina e se ciò è certamente plausibile è di tutto momento considerare che quella me a me conferisce una tale unicità all'esperienza descritta che non sarebbe forse incongruo pensare anche all'esperienza della propria poesia al sonetto della garisenda appunto e al superamento definitivo di quella poesia comica di quella maniera poetica che richiamava alla mente anche una bologna conosciuta concretissima fatta di acque di pozzi di canali concludo dunque attraverso una suggestione ricordando che forse se per un momento s'accettasse di identificare che il paragone del trentunesimo dell'inferno si incorpora nel profilo di un essere diabolico non sarebbe neppure ragionevole soggiungere magari sulla corda del paradosso che per la bologna dei poeti l'antipurgatorio nella commedia spunta già nel cielo che quel nuvolo errante disegna in segreto proprio dietro la sagoma della garisenda bene ora dopo la spiegazione diamo lettura come è consuetudine del canto trentunesimo dell'inferno una medesma lingua pria mi morse sì che mi tinse l'una e l'altra guancia e poi la medicina mi riporse così o dio che soleva far la lancia d'achille e del suo padre esser cagione prima di trista e poi di buona mancia noi debbon il dosso al misero vallone su per la ripa che il cinge d'intorno attraversando senza alcun sermone qui vi era men che notte e men che giorno sì che il viso mandava innanzi poco ma io sentii suonare un alto corno tanto che avrebbe ogni tuon fatto fioco che contra sé la sua via seguitando dirizzò gli occhi miei tutti ad un loco dopo la dolorosa rotta quando carlo magno perde la santa gesta non sono sì terribilmente orlando poco portai la volta la testa che me parve vedere molte alte torri un dio maestro di che terra è questa ed elli a me però che tu trascorri per le tenebre troppo dalla lungi avvien che poi nel maginare abborri tu vedrai ben se tu la ti congiungi quanto il senso si inganna di lontano però alquanto più te stesso pungi poi caramente mi prese per mano e disse pria che noi siamo più avanti a ciò che il fatto menti paia strano sappi che non son torri ma giganti e son nel pozzo intorno dalla ripa dall'ombelico ingiuso tutti quanti come quando la nebbia si dissipa lo sguardo a poco a poco raffigura ciò che cela il vapor che l'aere stipa così forando l'aura grossa e scura più e più appressando verso la sponda fuggie mi errore e cresce mi paura però che come sulla cerchia tonda monterigion di torri si corona così la proda che il pozzo circonda torreggiava di mezza la persona le orribili giganti cui minaccia giove del ciel ancora quando tuona ed io scorgeva già dal culla faccia le spalle e il petto e del ventre gran parte e per le coste giù ambo le braccia natura certo quando lasciò l'arte di si fatti animali assai febbene per torre tali esecutori a marte e se la dellefanti e di balene non si pente chi guarda sottilmente più giusta e più discreta la ne tene che dove l'argomento della mente s'aggiugne a malvolere e alla possa nessun riparo vi può farla la faccia sua mi parea lunga e grossa come la pina di san pietro a roma e a sua proporzione erano l'altre ossa sì che la ripa che era perizoma dal mezzo in giù ne mostrava ben tanto di sovra che di giugnere alla chioma tre freson s'averi andato mal vanto però ch'io ne vedea trenta gran palmi dal loco in giù dov'omo affibbia il manto rafael maia me che zabi almi cominciò a gridar la fiera bocca cui non si convenia più dolci salmi e il duca mio ver lui anima sciocca tienti col corno e con quel ti disfoga quand'ira o altra passion ti tocca cercati al collo e troverai la soga che il tien legato o anima confusa e vedi lui che il gran petto ti doga poi disse a me e li stessi s'accusa questi ennembrotto per lo cui malcoto pur un linguaggio nel mondo non s'usa lascialo stare e non parlamo a vuoto che così è a lui ciascun linguaggio come il suo ad altrui cannullo e noto facemmo dunque più lungo viaggio volti a sinistra e al trardo un balestro trovammo l'altro assai più ferro e maggio a cinger lui qualche fosse il maestro non so io dir ma il tenea succinto d'innanzi l'altro e dietro il braccio destro d'una catena che il tenea ha vinto dal collo in giù e che in su lo scoperto si ravvolgea in fino al giro quinto questo superbo volle essere esperto di sua potenza contro il sommo giove disse il mio duca ondelli accotà al merto fialte a nome e fece le gran prove quando i giganti fer paura ai dei le braccia che il meno giammai non muove e io a lui sesser puote io vorrei che dello smisurato briareo esperienza avesser gli occhi miei ondelli rispose tu vedrai anteo presso di qui che parla ed è disciolto che ne porrà nel fondo doniereo quel che tu vuoi vedere più là è molto ed è legato e fatto come questo salvo che più feroce parne il volto non fu tre muoto già tanto rubesto che scuotesse una torre così forte come fialte a riscuotersi fu presto all'orte metti io più che mai la morte e non vera mestiere più che la dotta se io non avesse viste le ritorte noi procedemmo più avanti a lotta e venimmo a danteo che ben cinque alle senza la testa uscìa fuor della grotta o tu che nella fortunata valle che fece scipion di gloria reda quando annibal coi suoi diede le spalle recasti già mille leon per preda e che se fossi stato all'alta guerra dei tuoi fratelli ancor par che si creda che avrebbero vinto i figli della terra mettine giù e non tenvegna schifo dove cocito la freddura serra non ci fare ire a tizio né a tifo questi può dar di quel che qui si brama però ti china e non torcerlo grifo ancora ti può nel mondo render fama che il vive e lunga vita ancora aspetta se innanzitempo grazia a sé non chiama così disse il maestro e quelli in fretta le mandi stese e prese il duca mio onde hercule sentì già grande stretta virgilio quando prender si sentì o disse a me fatti qua sicchio ti prenda poi fece sì un fascio eri era egli e io qual pare a riguardar la carisenda sotto il chinato quando un nuvol vada sovressa sì che della incontro penda tal parve anteo a me che stava a bada di vederlo chinare e fu talora che io avrei voluto ir per altra strada ma lievemente al fondo che divora lucifero con giuda ci sposò né si chinato li fece dimora e come albero in nave si levò grazie